In questo brano e negli altri brani ci sono anche le poesie che poi riescono a dare all'autore spesso il modo di interpretare la poesia e di immaginare quello che è il significato più profondo della storia comunque della narrazione che c'è all'interno quindi stasera ve la leggo e poi vi interpreterò il brano Come un albero tu cresci in me nelle tue carezze orientali despotie negli occhi obliqui i ragazzi morti per il letto dell'ultima imperatrice Quali nuove monarchie e gli splendori d'amore mi prepara il tuo linguaggio di cerimonie razionali e vincenti? Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!